Un argomento che è comunque sempre più delicato è quello che dal primo di maggio poi il Green Pass sparirà per poter accedere ai ristoranti. Voi in questo periodo come vi siete comportati? Avete sempre controllato il Green Pass oppure avete tralasciato questa regola? No, le regole le abbiamo cercate di mantenere sempre e applicate rigidamente perché crediamo che nonostante sia un lavoro supplementare e sia un impegno per il personale e crediamo che questo sistema ci ha permesso di non chiudere e questo è importante. Diciamo che noi verso la bella stagione non diciamo dal primo maggio ma sicuramente alla prima decina di maggio iniziamo a usare il giardino esterno dove gli spazi sono molto ampi e naturalmente anche l'esperienza fatta l'anno passato ci erano scelti molti pesaresi proprio per questi spazi aperti, ampi, giochi per i bambini ma principalmente perché riescono a restare molto lontani tra un tavolo e l'altro. Ci siamo sempre tenuti alle regole, i Green Pass sono stati sempre controllati le persone comunque arrivavano già preparate con il loro Green Pass alla mano è stata una cosa abbastanza veloce e quindi sì, tutto nelle regole. E finalmente si può dire basta a questa regola che dovete rispettare anche in vista dell'estate quindi maggior gente, maggior complicazione in questo controllo. Sì, finalmente finirà l'era del Green Pass, speriamo per sempre e siamo felici di questo perché è stata una dura prova per tutti ma ci avviamo come dicevi alla conclusione e ne siamo super felici. Ormai penso che anche le persone si sono abituate anche perché noi dall'inizio l'abbiamo comunque chiesto quindi la gente è anche contenta sinceramente di sentirselo chiedere insomma il Green Pass quindi non abbiamo riscontrato difficoltà però ovviamente speriamo che dal primo maggio si tolga e che rimanga così perché poi non è che ce lo rimettono ancora insomma però difficoltà sinceramente no, la gente ormai è abituata quindi non c'è nessun problema.